Direi che tutti si aspettano uno scatto in avanti. Il Governo Letta ha avuto il merito di stabilizzare una situazione che era davvero critica e di recuperare una credibilità europea e internazionale che avevamo perso. Adesso serve un salto che sia in grado di affrontare il vero nodo che l'Italia deve risolvere, cioè la sua crescita, quella crescita che è necessaria per ridare fiato alle imprese, per restituire ai cittadini certezza di futuro e soprattutto a chi cerca lavoro come i giovani di poterlo trovare. Quindi una crescita economica che restituisca quelle speranze, quelle sicurezze, quelle certezze di vita a lavoratori, famiglie, imprese che è la condizione fondamentale per far sì che l'Italia esca finalmente dalla condizione di precarietà e di incertezza che ha conosciuto in questi anni. Questo è l'obiettivo per cui si è deciso di passare a una fase ulteriore, a una fase nuova, scegliendo un leader che, come sappiamo tutti, per determinazione, freschezza, spirito di innovazione, dà a tutti la speranza di poter aprire davvero una stagione nuova nella vita politica italiana.